Immagini shock di un uomo che si sta drogando, quelle che vi mostriamo dal sito dell'edizione fiorentina di Repubblica. Immagini che, secondo quanto riporta il cronista, sono state riprese a mezzogiorno in piena via Palazzuolo, dietro la stazione di Santa Maria Novella, in centro a Firenze praticamente. Stamattina la strada è deserta, saracinesche abbassate, pochi passanti, pochi anche i turisti. I residenti, quelli che interpelliamo, sono però tutti concordi anche se ci chiedono di non essere ripresi. Quelle immagini rispecchiano la realtà. Scene simili le vediamo tutti i giorni, racconta una signora, e un uomo conferma la presenza di persone ubriache o chissà cos'altro che ci ondolano ogni ora. Colpa nostra che gli permettiamo di comportarsi così, constata amaramente. Italiani, stranieri, non c'è differenza. Anche quelli che a casa loro si comporterebbero in ben altro modo, qui fanno quel che gli pare. Chi nella via ha un negozio lamenta la scarsa presenza delle forze dell'ordine. Un presidio, sostengono, scoraggerebbe chi si prende certe libertà. Non sono tante persone, ci raccontano, ma in mancanza di adeguato controllo possono spadroneggiare. Noi paghiamo le tasse e avremo diritto a più sicurezza, ci racconta il gestore di un bar straniero che qui lavora con tutta la famiglia. Maggiore sicurezza significherebbe maggiore tranquillità per i clienti e magari affari migliori per lui. Non si può non essere d'accordo. Queste fotografie che hanno fatto il giro del web non sono proprio la migliore delle pubblicità per una città che aspira a essere capitale della bellezza.